Perché soprattutto perché ti fa star bene, perché scopri un sacco di cose di te che probabilmente avevi ma anche qualcuno che si chiama Elisa te lo fa venire fuori e perché comunque scopro tanto umanità che a me piace tanto e perché è bello, quindi tutti a fare Joymotion.